Ups a tutti, cari upsine, upsine, come state? Come, 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 come state? Spero bene, dai, io oggi sono qui solo per voi, per registrare questo nuovo video. Ovviamente sono qui puntuale tutti i sabato notte a registrare. Cosa farò oggi? Un nuovissimo video eating, visto che mi è stato richiesto con degli yogurt. Quindi ovviamente ci saranno dei mouth sounds, un po' di suoni di masticazione, perciò se queste cose, questi suoni non ti piacciono, ci sono tantissimi altri video sul mio canale. Guarda quelli lì, ok? Per oggi ho preso due yogurt, ovvero due piccoli yogurt, questo qui al pistacchio e questo qui al caramello. ogni tanto, ogni volta che faccio questo video cambio anche tipo di yogurt, no? E questa volta ho voluto provare a prendere questi qua, che hanno, diciamo, metà, che è yogurt bianco e una piccola, che è una piccola vaschettina a parte con dentro quello che poi tu verserai dentro lo yogurt. Ho qua, come sempre, il nostro cucchiaino viola. Ne ho preso una scorta l'ultima volta. Quindi direi di cominciare. Indosso un paio di cuffie auricolari. Stenditi sul tuo letto e iniziamo subito a mangiare. Anche se sono le tre e tre vicinotte. Ne mangiamo, ovviamente, ne mangiamo sempre. Allora, iniziamo da quello al pistacchio. È il più vicino che qua. Allora... aspettate, che mo faccio così. Appoggio qua. Ok, allora... Lo yogurt non ve lo faccio vedere perché sennò casca tutto. È di un verdino chiaro. E qui abbiamo le cosette da mettere dentro. Però ci facciamo così. Ok. il tutto è molto precario. Ok. Vai, iniziamo, dai. Buono. Molto molto. Molto buono. guardate, è praticamente così. Spero si noti. però è buono, è veramente buono. E adesso ho incontrato le cosine un po' più croccanti. e poi ichi croccanti sono proprio proprio di pistacchio. ak oh un no buongiorno ho 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 cerco di fare meno brutti suoni possibili vittata che passa qua ok come sono? sono sporco spero di notare spero di notare dai che questo l'abbiamo praticamente finito ok grazie a tutti ok il primo yogurt l'ho finito era buono mi è piaciuto mi è piaciuto apriamo il secondo perché sennò cosa stiamo facendo questo video sennò per mangiare degli yogurt vediamo di non fare danno perfetto questo è il caramello dentro qua ci sono tipo delle piccole le piccole alacardi ok le ho messi tutte pronti questo è un po' più giallino ecco qui allora sa leggeramentissimo di caramello ma proprio soft soft ad essere buono è anche buono però tra i due come gusto lo yogurt di prima sa era molto più pistacchioso ecco così non 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 Quedi un altro bel cucchiaio Questo è un bel cucchiaio Tutto a posto, speriamo di sì Che poi guardate non vi racconto ieri Le lucine queste che vedete sullo sfondo Non i led, le lucine proprio, quel tipo di Natale Non si accendevano, pensavo fossero rotti Vabbè Le sfighe, tutte a me Ok, ok, ok Non si accendevano, non si accendevano 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 Perchè lo abbiamo finito Non si accendevano, non si accendevano Beh, direi che è arrivato il momento di salutarci Questo video ovviamente non è stato tanto parlato Però c'è il video precedente Dove ho parlato soltanto Perciò Ci sta bilanciare un po' i video La mia pancia Che adesso fa un po' rumore Ma non vi preoccupate E niente, dai Cucù Cucù Adesso tocca a te, tocca a te, tocca a te Iscriviti al canale se sei nuovo Per entrare a far parte della OOPS community E diventare un OOPSino se sei un maschietto Mentre uno a diventare un OOPSina Se sei una femminuccia, ok? Lascia poi un bel like Un bel commento Io li leggo tutti i commenti, eh Quindi scrivete pure Il video finisce qui Però se tu vuoi restare ancora insieme a me Io ti lascio qua il mio video precedente Qua una mia playlist E qui Sopra il microfono Il tasto per andare sul mio canale E vedere qualunque video tu vorrai Spero di averti tenuto compagnia Che questo video ti sia piaciuto, dai E niente Ti mando un grandissimo bacio Proprio qua Te lo do il bacio E niente, dai Buona notte 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 Grazie.